Inizieranno il 4 giugno i campionati mondiali di Pokémon. Si tratta dei campionati mondiali di videogiochi Pokémon 2011 che vedranno impegnati i concorrenti a partire dal 4 giugno a Birmingham nel Regno Unito prima di approdare per la prima volta in Italia l'11 giugno a Roma e proseguire poi in Spagna, Francia e Germania.